Sono in compagnia telefonica di una persona eccezionale, io seguivo tutti i suoi programmi, Red Ronny, ciao! Eccomi qua, ciao! Benvenuto! Sono qui, non ce l'ho a tua disposizione. Seguivi tutti i programmi vuol dire che adesso non segui RoxyBar.tv? No, invece ti voglio chiedere perché sono troppo felice di ritrovare RoxyBar, anche se sul web, ovviamente non in televisione, infatti una domanda arriva subito su questo, chiaramente. Ovvero, tu sei tornato con RoxyBar sul web. Perché hai scelto il web? Ma intanto è una scelta affrontata, nel senso che come nel 1990, dove entra in crisi nel mio rapporto con quella che era una televisione che stava cambiando, stava diventando una televisione urlata, urlavano tutti, c'era la televisione spazzatura, e io cercavo altre cose, cercavo altri valori e quindi mi sono autoemarginato e sono andato in musica e ho creato RoxyBar e Elf in una televisione molto più piccola che arrivava al 50% del territorio italiano. Però è stato un grande successo, abbiamo i 3 delegati consecutivi battendo dentro il festival di Sanremo e quindi è stata una scelta affeccata. Dopodiché, quando MTV ha occupato le frequenze di video music, cancellando totalmente quello che c'era, io non è che sono andato a cercare, non ho fatto opinioni di TV, non ho fatto altre cose, mi sono allontanato, ho accettato questa immaginazione, ho fatto le perotisti emergenti, le perotiende, ho fatto per 4 anni, 5 anni, un DVD in edicola, la prima ormai di TV di RoxyBar, eccetera, fino a quando, nel novembre del 2011, non studiaci in contatto, tramite la Marco Toglianzi, con Gianni Arnetta, che aveva questa piattaforma in streaming, dove c'hanno già molti canali sul web. Lui è venuto qui a RoxyBar, me l'ha illustrata, e ho detto, ok, partiamo, mi ha offerto di fare 5, 6, 7 canali, uno dell'articolo, uno solo, si chiamerà RoxyBar, e ci siamo partiti col canale, esattamente 20 giorni dopo che ci siamo incontrati, non eravamo già in contatto col canale sul web. Abbiamo avuto dei risultati trattanti, perché ho riassocorato intanto la libertà, la libertà che avevo, quello senso di libertà che avevo nel 1975-76, quando iniziai con le radio libere, che c'è anche una radio, ce ne abbraccio a Scumicini, Lucio Balla e Monti, e la stessa libertà, con una grandissima differenza, che mentre allora il problema era quello di andare oltre, consegnare la collina di San Luca, e non ci riuscivamo, oggi arriva in tutto il mondo, quindi io oggi il segnale di RoxyBar TV viene visto contemporaneamente in tutto il mondo, inoltre c'è, sto coronando anche un altro, un grandissimo desiderio, io ho mantenuto la proprietà di tutto il materiale girato, quindi diciamo di tutto l'archivio, tutto questo materiale girato, l'ho mantenuto e l'ho messo, e adesso riesco a mettere a disposizione, entrando dentro a RoxyBar.tv tu hai cerca per i programmi, tu dici tu un artista, ti comparino tutti, ci abbiamo già caricato mille programmi per dire, poi gli altri ne caricheremo ancora, e beh tu vedi tutti i programmi caricati con l'artista e scegli cosa vedere in tempo reale, e inoltre ti compare con un cursor sotto che tu puoi andare avanti e indietro, come se tu avessi il video direttamente all'interno dell'artista del tuo computer, perché vai avanti e indietro, metti in pausa, spegni, fai quello che vuoi, e questo è qualcosa di strepitoso. Red, senti, a proposito del fatto che tu appunto hai fatto radio, hai iniziato promuovendo i Sex Pistols, è stato tra i primi a mandare la loro musica, hai incontrato veramente tantissimi artisti, c'è un artista che ti ha emozionato in particolare nell'intervistarlo, nell'incontrarlo, dove proprio ti è arrivato una botta allo stomaco pazzesca? Beh, ti devo dare una delusione, perché non ti nomino, sono stati intervisti importanti, non ti nomino, Harrison, Paul McCartney, Richard, Mickey Ragger, o Fidel Castro, che ho intervistato, ma quello che mi ha dato, l'intervista ritengo più bella, in assoluto, è quella con un pittore sconosciuto, che si chiama William Congdon, che un giorno metterò e capirà il perché, è una cosa strepitosa, anche se ho fatto tanti testi, ma sai, il discorso è questo, il concetto di Roxy Bar, esce da una frase da Scorossi, e poi ci troveremo come noi stanno a bere a Roxy Bar, questo è il concetto, c'è anche un whisky, ma io lo tolgo, perché al bar siamo tutti uguali, era lì, un'intimità, poi una... Esatto, il bar, vedi, c'è, arriva l'imprenditore con la Porsche, la Ferrari, e arriva il disoccupato con la bicicletta, parcheggiato il mezzo, ed entrati nel bar, sono uguali, il disoccupato manda a quel paese, l'imprenditore, dice che non capisce niente, lo batte a calcio balino, lo batte a giardo, lo batte a giardo, lo batte a giardo, lo batte a giardo, dice che cosa vuoi capire, tu non hai mai capito niente nella vita, e questo glielo dice, il disoccupato è l'imprenditore, perché il bar è così, idem, nelle interviste per me, intervistare Fidel Castro, o intervistare, ho lavorato con gente grandissima, ho lavorato a lungo con Pavarotti, eccetera, però alla fine, ok, capisci la grandezza di quella persona, ma è una persona, e inoltre, io dedico loro, la stessa attenzione, che dedicò all'intervista con un artista emergente, per quello io ho delle bellissime interviste, con personaggi completamente sconosciuti, e andrei che erano completamente sconosciuti, poi sono diventati famosi, perché per me erano uguali, la Elisa che veniva da me, completamente sconosciuta, con la Caselli che mi aveva detto, guarda, ti affido questa artista un po' strana, mi dai una mano, eccetera, e per me era uguale all'Elisa di oggi, e capito, c'è strafamosa. Beh, il giovanotti, tu hai intervistato il giovanotti, quando all'inizio, insomma, non è che fosse proprio visto di buon occhio, diciamo così, o comunque, non è che veniva considerato il super giovanotto. i giovanotti, il giovanotti di Gimme Five, di E' qui la festa, i giovanotti, addirittura che fece quella canzone ritenuta, non secchiosa con Vasco, ma ironica, e dissacrante, e quindi sei, ecco, quel giovanotti lì, diciamo che, gran parte dei giornalisti, che oggi lo sanno, come il guru globale, allora era causato, lo scemo del villaggio, un artista lo capisci, se ha qualcosa da dare, poi sei giovane, crescerà, l'evoluzione non la potrai mai intuire dell'artista, quando Lorenzo veniva a casa mia, le prime volte con dei testi, che per lui erano strani, che ci voleva confrontare, anche con me, che mi portò, mi ricordo, va a Trebucca e Balla, e io gli dici, vai avanti, perché a Trebucca e Balla, e gli inizio, e lo feci dire a Vasco, perché ho chiesto a Vasco, l'ho portato ad ascoltare a Trebucca e Balla a Vasco, Rossi, e lui ha detto, mi piace, e gli ho detto, sei disposto a dire sul palco di votare la voce, e lui mi ha detto di sì, e ha sdoganato Giovanotti, sul palco di votare la voce, dicendo, la carriera di Giovanotti inizia adesso.